Un carico di droga, probabilmente destinato alla piazza di Lecce, è stato intercettato dal Roan e dal Gigo della Guardia di Finanza. A trasportarlo un insospettabile pescatore 51enne, Ivano Palermo, spintosi con la sua barca di 6 metri oltre il limite delle acque territoriali. Proprio tale constatazione è risultata sospetta agli investigatori. I militari del Roan, guidati dal capitano Vincenzo Capone, hanno fermato l'uomo per un controllo durante la battuta di pesca a 3 miglia da San Cataldo e sul natante un forte odore di marijuana ha fatto sospettare la presenza di un carico importante. L'imbarcazione è stata quindi scortata fino al porto dove i finanzieri del Gigo, guidati dal Maggiore Giuseppe e di noi, hanno proceduto alla perquisizione trovando la droga nascosta in un doppio fondo ricavato sotto la console di comando. Lo stupefacente, che era suddiviso in panetti e ben confezionato, con tutta probabilità è stato acquistato in Albania. Resta ora da verificare se l'uomo sia l'acquirente o un semplice trasportatore in una rete più ampia di trafficanti.